Non ho molto tempo. Facciamo l'amore. Che cosa triste, Claire, tutto questo. Neanch'io ho tempo, sai? Maria ha organizzato una festa per me e sono... sono già in ritardo. Può darsi che venga a cercarmi qui. Perché da una festa per te non è il tuo compleanno. Beh, vuole che festeggiamo comunque, sai, lei... lei è fatta così. Domani. Torna qui domani, Claire, ti aspetto nell'ora della siesta. È impossibile. Devo partire stasera. Sarò già una fortuna se riesco ad arrivare in tempo. arrivare in tempo per cose. Per Claire, la temeraria. Sappi che questa volta non fermerò la tua caduta. Toccava a lei o a me? E siccome io sono ancora qui, deve essere toccato a lei. per te noi, voi zwar... Per te lookin' a chi.